Sono Mauro Lavazza, Division Manager del settore Install and Contracting in Leading Technologies. L'argomento trattato oggi è riguardato la parte di System Integration. Ho voluto dare una mia interpretazione di quello che è il mio lavoro di tutti i giorni nel dare una sorta di consulenza all'installatore e integratore di sistema per quello che è la parte relativa a audio, video e audio tecnica. Ho cercato di trasmettere il concetto di qualità di sistema inteso come la giusta soluzione per ogni tipo di problema al giusto prezzo. Secondo me vuol dire individuare le giuste tecnologie, le giuste soluzioni da proporre indipendentemente dal loro costo. Per fare questo bisogna avere una padronanza di quello che sono i liti imposti dalle tecnologie per saperlo sfruttare al meglio. Ho fatto questo con degli esempi che spaziano, al di là di quello che è l'argomento di oggi delle sale conferenze, delle sale riunioni, ma presentando soluzioni che vanno dai luoghi di culto, applicazioni industriali, sistemi in multiroom audio video e sistemi per applicazioni in abito retail. Ho percepito dell'assenso, nel senso che ho visto molte persone che scottevano la testa in senso di assenso. Probabilmente alcune delle cose che sono state dette sono state delle ripetizioni, però questo vuol dire che gli addetti ai lavori, chi si trova in una parte privilegiata del mercato, cioè chi deve proporre delle soluzioni, ha lo stesso feedback dal mercato e da chi deve invece installare e utilizzare questa apparecchiatura. Penso che l'assenso sia una cosa positiva perché c'è bisogno di far evolvere in termini culturali la preparazione di chi deve utilizzare delle tecnologie che viaggiano troppo in fretta rispetto a quelle che sono probabilmente le reali esigenze del mercato.